Il premio è un premio che dà grande soddisfazione perché è il frutto del lavoro di tante persone e di tante aziende partner che in un momento straordinario nel senso letterale del termine hanno tirato fuori il meglio di loro stessi. Io sono orgoglioso perché ho coordinato questo team di aziende e di persone senza le quali non sarebbe stato possibile quindi ringrazio anche Verona Network che ha valorizzato questa cosa. Ecco anche Carri Ragins è nata chiaramente in Lessinia insomma quindi è una parte importante anche per voi? Per noi è la parte delle nostre radici, i fondatori sono di Lugo di Grezzana, abbiamo ancora un sito logistico e un negozio in Lessinia quindi per noi è sempre il nostro cuore. È un territorio che va sempre coltivato, deve essere aiutato, amato. Sappiamo che ha delle difficoltà perché tutti i territori montani sono complicati ma noi abbiamo la possibilità di fare grandi cose, bisogna solo mettersi insieme e collaborare.